Ragazzi ben ritrovati! Avete presente quei kit di sopravvivenza che si trovano in rete già belli, pronti e confezionati? Ovviamente made in China. Ecco, ne ho comprato uno. È il più economico che sono riuscito a trovare, costa circa 10 euro. L'ho preso sia per una mia malsana curiosità e sia perché so che a voi queste cose piacciono tantissimo e io sono sempre molto attento alle vostre esigenze. Io sono attento ad ogni foglia che si muove nel vento, come dice Richard Benson, e quindi mi sono detto, no, devo assolutamente comprarlo, devo assolutamente farci un video. La mia curiosità qual è? È vedere che cosa mi danno per 10 euro. Qui dentro ci sono cose che sulla carta dovrebbero permettermi di sopravvivere e voglio verificare se si tratta di un completo giocattolo o se chi produce questa roba fa un minimo sul serio e quindi se qui dentro, perlomeno alcuni degli oggetti che si trovano qui dentro, sono effettivamente utilizzabili in una situazione di emergenza. Mi fate spesso domande sul kit di sopravvivenza, mi chiedete di consigliarvi un buon kit di sopravvivenza. Io quello che di solito consiglio è di andare ad acquistare, diciamo sfusi, tutta una serie di oggetti che poi voi metterete insieme a formare il vostro kit di sopravvivenza personalizzato o come lo chiamo io, kit di emergenza. In questo modo sicuramente spenderete di più perché andrete ad acquistare singolarmente degli oggetti di qualità ma sarete anche sicuri di avere degli oggetti che poi possono effettivamente esservi utili se vi trovate nei guai. Perché raga, parlamo sei chiaro, per 10, 20 o 30 euro che pensate che vi danno? Ecco, adesso andiamo a scoprirlo. Sapete una cosa? È pesante. Questo mi fa ben sperare perché probabilmente significa che i materiali all'interno sono abbastanza strong. La scatolina mi piace molto, già ve lo dico, è di metallo, così rossa con scritto SOS, è proprio carina. Comunque, vediamo un po' che c'è dentro. Allora, queste sono delle istruzioni dove fa vedere quello che c'è dentro, il contenuto e spiega come utilizzarlo. Qui sono in cinese e qui sono in inglese. Qui abbiamo una pinza multiuso. Ecco la pinza multiuso. È questa che pesa. Andiamo un po'. A prima vista, e anche al tatto, non è proprio malaccio, devo dire. Adesso poi, magari dopo la esaminiamo con più attenzione. Andiamo avanti, c'è un fischietto di emergenza. Ha una guarnizione, si svita. Andiamo un po'. Non so, sinceramente, a cosa serva. Dentro ha uno scompartimento. Che però non riesco a capire a cosa serve. Forse, non so, un piccolo contenitore reso impermeabile perché c'è questa piccola guarnizione. Insomma. Non è fortissimo. Non è fortissimo. Quelli che ho io, che tengo anche sullo zaino, sono sicuramente più forti. Ho un fire steel. Questo poi, dopo, lo proviamo bene per vedere se è di qualità, se fa scintille fatte bene. C'è una piccola bussola con un passantino. Vediamo se... Vediamo se... Si vede? Vabbè. Bussola... Normalissima. Una sega a filo. Sono molto scettico sulle seghe a filo. Adesso, vabbè, andiamo a provare, vediamo un po'. E poi abbiamo una di quelle card... Tool card, credo che si chiamino. Una piastrina di acciaio con ricavati tutta una serie di attrezzi. C'è la custodia. Andiamo un po' dentro. Ah, dentro c'è... Vi spiega... L'utilizzo di ciascun attrezzo. Bene, ora che abbiamo preso visione degli oggetti che ci sono all'interno di questo kit, è arrivato il momento di testarlo. Ho scritto test estremo perché mi metterò in una situazione proprio al limite. Cioè farò finta di non avere nulla con me, a parte questo kit. E vedremo che cosa riuscirò a fare utilizzando solo ed esclusivamente gli oggetti contenuti al suo interno. Mettiamo che io sia rimasto bloccato nel bosco per qualsiasi motivo, che abbia perduto lo zaino con tutto quello che c'era dentro, quindi massimo della sfiga. Sono rimasto unicamente con questo kit che molto furbescamente tenevo in tasca. Ecco, adesso cercherò di intraprendere tutta una serie di azioni mirate a non peggiorare la mia situazione in attesa che arrivino i soccorsi. Cercando di attenermi a quelli che sono i principi basilari della sopravvivenza. Quindi andando a stabilire delle priorità. Specifico ragazzi che io mi interesso di sopravvivenza ma non sono un istruttore di sopravvivenza. Quindi non prendete per oro colato quello che dirò e farò tra poco. Se volete avere una preparazione adeguata, seguite dei corsi con dei professionisti. Facciamo finta che io sia bloccato nel bosco. Qual è la prima cosa che faccio? Beh, direi un rifugio perché verosimilmente sarò costretto a passare la notte qui. La notte le temperature scendono, fa molto freddo e un rifugio rappresenta la primissima arma di difesa che abbiamo per proteggerci dal freddo in una situazione di emergenza. Quindi dovrò trovare un punto adatto e mi servirà un po' di legna. Quindi sicuramente entrerà subito in gioco la sega a filo. Sono in una situazione di emergenza, non ho cibo, non ho acqua, quindi devo assolutamente cercare di evitare di affaticarmi, di sudare per ritardare la disidratazione. Quindi siccome qui ci sono un sacco di alberi caduti, sto cercando un qualche cosa che sia il più possibile già pronto. Adesso vi spiego meglio di cosa sto parlando. Guardate quest'albero qui, per esempio, che è caduto ed è inclinato in questo modo. Questo è in pratica un montante già pronto per il mio rifugio perché ho già appunto questo palo trasversale. Quindi non dovrò fare altro che procurarmi dei rami e appoggiarceli sopra per formare una tettoia. Quindi ho risparmiato parte del lavoro perché non ho dovuto tagliare e posizionare questo grande tronco. In questo caso la natura ha fatto già parte del lavoro al posto mio. Come prima cosa voglio posizionare 3 o 4 rami che diano robustezza al rifugio. Quindi mi servirà della legna non marcia, diciamo secca, ma non completamente andata. Poi al di sopra di questi 3 o 4 rami più robusti potrò mettere dell'altro materiale secco, detriti vari, che facciano un po' di copertura. Quindi adesso mettiamo subito alla prova la mia magnifica sega a filo. Provo a tagliare qualche ramo da qui. C'è questa betulla che mi sembra caduta di recente, quindi il legno dovrebbe essere ancora abbastanza robusto. La sega a filo si può usare in due modi, o infilando le dita all'interno di questi anellini, quindi azionandola con le mani, oppure si può fissare su un bastone curvo e quindi fabbricare una sorta di sega ad arco rudimentale, improvvisata, diciamo così. Ragazzi come vedete sto già incontrando le prime difficili. La situazione per me non si mette affatto bene, vedete? Si incastra perché c'è questa parte centrale che si è formata come una specie di nodo, di inspessimento che si va ad incastrare all'interno del taglio, quindi non mi rimane che utilizzarne solo una parte, quindi non tutta la lunghezza, solo che così affitto domani. È passato un quarto d'ora e sto ancora qua. E parliamo di betulla, quindi non un legno duro. Non bene, non si mette per niente bene. Si è incastrata di nuovo. Ho smesso ragazzi perché stavo sudando e mi stavo affaticando troppo e non ha senso. In una situazione di emergenza sarebbe un suicidio mettersi a fare sforzi di quel tipo. A questo punto secondo me la scelta migliore è sacrificare un po' di robustezza del rifugio, ma costruirlo con materiali che trovo già a terra. E quindi che non mi richiedano sforzi che poi potrebbero andare a compromettere le mie condizioni fisiche. La sega a filo è da bocciare, questa devo dire la verità, è la prima volta che utilizzavo una sega a filo. Non l'ho mai comprata, non l'ho mai avuta perché l'ho sempre considerata una cavolata pazzesca. Ora non lo so, magari ce ne sono anche di qualità. Questa qui sicuramente non lo è, ma grazie al cavolo è in un kit da 10 euro. Non è di qualità perché taglia poco anche il legno morbido, ma soprattutto perché si è immediatamente viziata proprio nella parte centrale. Quindi questo mi ha impedito di sfruttarla per tutta la sua lunghezza, rendendo ancora più difficoltoso il taglio. Quindi a questo punto procedo con la costruzione del mio riparo di fortuna utilizzando legna che trovo già a terra o abbastanza secca da poter essere spezzata con le mani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi diciamo che il rifugio è fatto, è proprio il minimo indispensabile, si potrebbe aggiungere dell'altro materiale ma è già un'ora che ci lavoro e quindi diciamo che nell'ottica di non affaticarmi troppo ho deciso che può essere sufficiente così. Guardate come mi sono ridotto le mani semplicemente a raccogliere un po' di legna ed un po' di felci. Questo fa riflettere, eccomi all'interno del rifugio ragazzi, come vi dicevo è un qualcosa di estremamente essenziale, ho solo accumulato un po' di materiale. Però vi assicuro che fa tanto anche psicologicamente avere un qualcosa alle spalle, una piccola nicchia dove ripararsi. Adesso mi riposo un po' e ne approfitto per elaborare il passo successivo che molto probabilmente sarà l'accensione del fuoco. L'arrivo della notte sicuramente le temperature si abbasseranno quindi oltre ad un rifugio ho bisogno di un fuoco che mi permetta di stare al caldo e di scongiurare il pericolo dell'ipotermia. Non dovrebbe essere troppo difficile accendere un fuoco perché come vedete sono circondato dalle betulle e si sa che la corteccia della betulla è molto infiammabile. Per accendere il fuoco utilizzerò il fire steel sicuramente ma anche la pinza multiuso. Approfitto di questa pausa per farvi vedere più nel dettaglio la pinza multiuso. Oltre alla pinza da questo lato abbiamo addirittura una mini torcia. Vediamo un po'. Ok. Adesso non sono in grado di dirvi quanta luce fa. Vediamo un po'. È alimentata. Qui abbiamo sulla filettatura c'è anche una guarnizione. Vediamo un po'. È alimentata da tre batterie di quelle piccolissime proprio a bottone. Da quest'altra parte di qua abbiamo la sega, un cacciavite con apriscatole e credo un altro cacciavite. E una lama. Adesso vediamo se è affilata. L'idea è di utilizzare la pinza multiuso o specialmente la lama o magari anche la seghetta per preparare l'esca e poi il fire steel per innescarla ovviamente. Questo è il fire steel, ha anche lo striker. Adesso lo proviamo, vediamo se è di buona qualità. Ovviamente non taglia anche perché ha la dentatura solo da una parte e non doppia. Tiriamo fuori la lama, vediamo un po'. Ho veramente un brutto presentimento. E niente ragazzi, non taglia assolutamente. Mi sono ferito le mani e adesso diventa, vediamo se si vede, diventa estremamente difficile fare tutto. Questo vi può dare un'idea di quali possono essere le condizioni quando uno si trova in emergenza e non ha nulla. Sono riuscito a fare una sorta di feather sticks ma evito di insistere anche perché la lama non è fissa. Vedete, non si mantiene bella salda una volta aperta. Ha parecchio gioco e voglio evitare di farmi male. Mamma mia, è bronto allo stomaco. Non ho mangiato nulla. Ragazzi qui proprio sto facendo una simulazione molto molto accurata. E' veramente, veramente difficoltoso. Sto provando sia con la lama che con la sega ragazzi, ma il risultato è praticamente lo stesso, ossia una schifezza. L'operazione sta richiedendo più tempo del previsto perché ovviamente questi attrezzi fanno schifo e oltretutto sono molto piccoli quindi è difficoltoso andare a lavorare con roba piccola. Mi sto distruggendo le mani. Mi sto distruggendo le mani. Mi sto distruggendo le mani. Non riesco ragazzi, ci ho provato in 10.000 modi e un'ora che sto qui. Però l'acciarino fa schifo, lo striker fa schifo e la pinza multiuso fa schifo perché nessuno degli utensili presenti taglia. Mi sono praticamente distrutto le mani, oltretutto questo, vedete, a forza di dargli giù si è allentato e quindi tra poco si romperà. Adesso prendo un firesteel come si deve e vi faccio vedere un attimo la differenza. Lo spengo subito ragazzi perché ovviamente si tratta di un esperimento. Allora ragazzi facciamo un attimo il punto della mia situazione di povero malcapitato che si è perso nel bosco e deve sopravvivere unicamente utilizzando gli strumenti contenuti all'interno di questo kit. Ho un rifugio ai limiti della decenza, peraltro costruito interamente con le mani, senza l'ausilio di alcuno strumento del kit. E basta, non ho nient'altro perché sono senza fuoco, non ho acqua da bere e anche se la trovassi non ho nulla per potabilizzarla. Sono senza fuoco e quindi probabilmente se stanotte le temperature vanno sotto zero morirò di ipotermia. A questo punto mi sembra superfluo andare avanti con il test che si è rivelato già abbastanza estremo, soprattutto per le mie mani. Mi sembra inutile andare avanti perché non avendo nemmeno il fuoco, che cos'è che mi salverà? Una bussola da un centimetro quadrato? Un fischietto che tra l'altro fischia piano? La tool card? Io non credo proprio. Non si salva nulla di questo kit. L'unica cosa decente e carina è la scatola. Per il resto abbiamo tutti oggetti che sono completamente inutili, completamente inutilizzabili. Voi direte, certo costa 10 euro, che pretendi che ti danno per 10 euro? Ma a questo punto non capisco proprio come mai vengano prodotti questo tipo di kit, visto che non servono a niente. Hanno una funzione puramente estetica, per bellezza, come gadget, non lo so, non so nemmeno come chiamarla. E a questo punto dubito anche che comprando quelli da 20 euro o da 30 euro la situazione cambia. Magari vi danno più attrezzi, ma saranno comunque attrezzi scrausi. Quindi ragazzi, oggi più che mai mi sento di ribadire nuovamente e di consigliarvi nuovamente di non acquistare dei kit di sopravvivenza o di emergenza già fatti, ma di comprare separatamente degli oggetti che siano di qualità e che quindi poi riuscite effettivamente ad utilizzare per fare qualcosa se vi trovate in una situazione di emergenza. Avete visto con il Firesteel buono della Light My Fire, ci ho messo un attimo ad accendere il fuoco e io diciamo che non sono un asso con il Firesteel. Spero come al solito che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto e che vi abbia dato anche degli spunti di riflessione. Se vi piacciono i contenuti che vi porto ragazzi vi ricordo come al solito di lasciare innanzitutto un bel like a questo video e poi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi le prossime avventure. Fatemi sapere nei commenti che cosa c'è nel vostro kit di sopravvivenza, se anche voi come il povero sventurato qui presente siete caduti nel tranello dei kit di sopravvivenza già fatti o se ve lo siete composto con oggetti di qualità fatti bene e quindi avete un kit di sopravvivenza o di emergenza che funziona. In descrizione trovate come sempre tutti i link dei miei social, vi invito ad andarli a visitare, specialmente la pagina del Fall Adventure Gathering, il raduno annuale degli appassionati dell'avventura e delle discipline outdoor e a quel punto di iscrivervi anche a Fall Adventure Community che è il gruppo ufficiale del Fall Adventure Gathering. Stiamo preparando il Gathering 2020 e stiamo preparando tutta una serie di appuntamenti, di incontri per stare insieme e per condividere la nostra passione per l'outdoor. Quindi mi raccomando ragazzi andate a vedere il tutto, ve lo lascio in descrizione. Un saluto ragazzi, state bene e ci vediamo ad un prossimo video.